Altro che oggetti da buttar via, il mercato dell'usato in crescita vale 23 miliardi di euro. Detto così può sembrare difficile da capire, se però pensiamo che una misura bandiera del governo come il reddito di cittadinanza alla fine dell'anno costerà probabilmente tra i 5 e i 6 miliardi, allora la forza dell'usato diventa più chiara. Un mercato che riguarda la vita della metà degli italiani. Di questi, uno su due ha scelto di farlo online. E qui entra in gioco un oggetto, vendutissimo di seconda mano, che sposta di molto le statistiche. Parliamo dell'automobile. È il mercato principale, vale metà dell'intero fatturato e si svolge prevalentemente fuori da internet. Seppure quello delle auto vendute online, se ha un trend in forte crescita, non raggiunge ancora il fatturato di quello offline. I dati sono quelli dell'osservatorio condotto da Doxa per Subito.it. Cosa comprano allora gli italiani su internet? Prevalentemente oggetti relativi a casa e persona, seguiti da quelli di elettronica, di poco sopra adobbi e spot. Interessante capire le motivazioni di chi compra usato. Pur restando la ragione principale, scende la quota di chi lo fa per risparmiare. Cresce invece la volontà di trovare pezzi unici o vintage e di aiutare l'ambiente. Dall'altra parte, chi vende è animato quasi sempre dallo stesso desiderio liberarsi del superfluo, ovviamente guadagnando.